Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con l'informazione locale di Radio Civita in blu. In questo venerdì 24 gennaio 2020 apriamo con la cronaca Sequestro in gente al MOF di Fondi, interviene la forestale per mancata tracciabilità e mancata etichettatura. A battere la notizia nella giornata di ieri latinacorriere.it i fatti nella giornata di giovedì l'operazione a cura dei carabinieri forestali di Fondi grazie al sostegno dei colleghi di Segni e Guidonia ha portato al sequestro di circa 4 tonnellate di patate e una tonnellata di altri prodotti sempre di tipo ortofrutticolo elevate sanzioni a 7 aziende per un complessivo di circa 3.000 euro Nei giorni scorsi a Sperlonga i carabinieri hanno denunciato per il reato di porto d'armi o oggetti atti ad offendere e rifiuto dell'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti alla guida un 28enne del luogo il giovane a seguito di perquisizioni sarebbe stato trovato in possesso di una mazza da baseball e di un dissuasore elettrico di tipo taser nonché di un piccolo quantitativo di sostanza stupefacente di tipo marijuana fondi il comune costretto a ritirare le borracce distribuite agli studenti in via precauzionale le borracce distribuite proprio per procedere con l'idea di trasformare nel tempo il territorio comunale in plastic free avrebbe o potrebbe avere qualche problema il comune corre ai ripari il rischio secondo quanto risonato dall'ente che il tappo in plastica rilasci dei residui all'interno della borraccia quindi nell'acqua durante i primi utilizzi la gazzetta degli aurunci scrive al comune di Itri proseguendo una battaglia sul recupero dell'acquedotto romano che da Terragona giunge fino a Madonnella un recupero che secondo loro che scrivono la missiva potrebbe avere un impatto sia storico che turistico mettendo a regime le antiche civiltà che hanno abitato la zona con il castello medievale, il museo del brigantaggio e l'antica via Appia Nei giorni scorsi il sindaco di Castelforte Giancarlo Cardillo ha contattato e poi scritto all'Astral in merito alla chiusura al transito della strada provinciale 125 ausente che collega le terme di suio con i comuni della Valle dei Santi l'intervento del primo cittadino di Castelforte ha contribuito a contattare i dirigenti dell'Astral che gli avrebbero assicurato il loro urgente impegno in merito la questione rimane delicata per il territorio proprio per non mettere a rischio anche la stagione termale di suio la strada suddetta infatti era stata danneggiata dalle ultime ondate di maltempo tra gli appuntamenti di Cesani vi segnaliamo quello di quest'oggi con il consiglio presbiterale e la tre giorni che inizia oggi 24 gennaio presso la chiesa di San Paolo Apostolo di Fondi in Via Lazio con l'arrivo delle reliquie di San Giovanni Paolo II appuntamento questo che seguiremo nella giornata di oggi e di domani sabato 25 gennaio anche con Radio Civita in blu con la diretta direttamente dalla parrocchia di San Paolo e l'ostensione delle reliquie da dopo le ore 18 per la messa tra l'altro messa che oggi viene presieduta dall'arcivescovo di Gaeta Luigi Vari appuntamenti radiofonici come ogni venerdì sulle frequenze di radio antenna musica ma anche e soprattutto su quelle di Radio Civita in blu nonché sui canali social di h24otizie.com va in onda la puntata del format La Campanella ospite della puntata numero 90 dell'intervista settimanale il sindaco di Formia Paola Villa la puntata andrà in onda sulla nostra emittente dopo la diretta da San Paolo Fondi intorno alle ore 19 e 30 dal 4 all'8 febbraio invece Radio Civita in blu e RAV ovvero Radio Antenna Verde partiranno per Road to Sanremo 2020 il progetto di radio, tv, web e social che seguirà il settantesimo festival della canzone italiana di Sanremo interviste, curiosità e dirette dall'Ariston con sei inviati dal Golfo degli Aurunci per seguire la Kermes Canora più importante d'Italia con inviati accreditati in sala stampa e on the road per le strade di Sanremo dallo sport invece domani altro fine settimana delicatissimo per le due compagini pontine impegnate nel massimo campionato di A1 nazionale maschile di Pallamano l'HC Fondi ospita l'ultima in classifica del Metelli Cologne con cui deve vincere se non vuole rischiare di essere agganciata dai Lombardi stessa situazione per il Gaeta che ospita il Merano anche i giocatori del Golfo hanno bisogno di punti importanti attualmente infatti sono penultimi in classifica appaiati proprio alla compagine dei Cugini di Fondi noi siamo in chiusura del nostro appuntamento con l'informazione locale vi ricordiamo come sempre quelli che sono i nostri contatti scriveteci su Whatsapp al 348-888-1447 o se preferite a Radio Civita in Blu chiocciola a gmail.com un saluto da Simone Nardone un buon proseguimento di ascolto su Radio Civita in Blu Grazie a tutti